Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Wookiee Race, gioco di gare famoso perché quelli della mia età se lo ricorderanno nel cartone animato, ma secondo me anche quelli un pochino più giovani, gioco divertentissimo dell'Akmon portato in Italia da Asmod Italia e regalo che mi ha fatto il mio grandissimo amico Ryuzenka che io ringrazio immensamente e di cuore grazie Ryu, grazie davvero, è un onore e un piacere disumano per questo regalo che volevo da molto tempo e che avevo già addocchiato anche perché, come vi farò vedere in fase di unboxing, ha una componente all'interno miniature che sono qualcosa di spettacolare e non ci si doveva aspettare diversamente. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Wookiee Race è un gioco di gare molto scansonato, molto divertente e da un certo punto di vista anche abbastanza maligno perché è un gioco competitivo. Vi ricordate i protagonisti del cartone animato, c'erano i mafiosi sull'auto in stile appunto anni 20, anni 30, o il sergente, poi era un tenente qualcosa del genere, sul car armato poi c'era tipo il boscaiolo che ci aveva accanto il castoro, era una figata assurda e la famiglia Adams, tipo, che erano quelli miei preferiti ed è un gioco di corse dai 14 anni in su, velocissimo, dove bisogna comporre un tracciato e fare una gara bisogna scegliere il proprio personaggio, non è un gioco ovviamente cooperativo, un gioco di gare, non potrebbe esserlo e c'è un'intelligenza artificiale, un NPC nemico che è Dick Dastardly vi ricordate quello col canino che direva un po' come fa appunto mia moglie, che la risata l'ha presa da lì e lui sarà quello che cercherà di minarci la gara, non lo può fare nessuno è sempre qualcuno mossa appunto dalle regole del gioco ed è qualcosa che va a remare contro tutti è un gioco di gare, dovete fare una gara in un percorso, un tracciato che sono tante caselline, piccolità fa il messo uno dopo l'altro e vinca il migliore, ovviamente vince chi arriva in fondo al tracciato e arriva per primo, quindi chi arriva, se potete fare anche un podio, secondo, terzo c'è una modalità championship ma alla fin fine in queste gare vince chi arriva primo come è giusto che debba essere vi faccio vedere un pochino come funziona ma prima di tutto unboxing, confezione del gioco bella, grande, ma anche perché il contenuto, soprattutto infatti di miniature, è bello ricco e vedete il disegno è qualcosa di spettacolare, vi giuro, mi garba troppo quando ero piccino lo guardavo tutte le volte che lo davano in televisione, era appassionato da morire e poi il maledetto col suo cane Dick D'Arserly che lui mira soltanto a distruggere la gara a tutti quanti veramente molto molto bella, che il disegno mi piace molto, gioco dell'Akmon apriamo il regolamento fatto a striscetta con tutte quante le miniature, le vi faccio vedere un pochino e le regole sono veramente semplicissime abbiamo la plancia del personaggio dove dobbiamo mettere tutte quante le carte con le proprie abilità e poi da quest'altra parte abbiamo i tracciati che vanno semplicemente messi tutti insieme che sono 16 tracciati normali e 4 speciali che sono tipo la palude e cose del genere quindi comunque a livello di regole e di setup iniziale è facilissimo e poi tutte quante le carte trappole che Dick D'Arserly ci andrà ad usare contro tutte quante le macchinine che sono bellissime, veramente bellissime vi dico la verità, queste io non le dipingerei nemmeno perché non lo so, anche l'idea di vederle così belle plasticose di questi colori sì, oddio, colorandole verrebbero sicuramente bene come effetti e tutto quanto però mi piacciono così, mi piacciono veramente tanto e le miniature sono fatte benissime poi sono belle grosse, belle belle corpose, mi garbano veramente tantissimo poi le planche, come vi ho detto dove mettere le schede dei personaggi più che altro dove mettere le carte abilità e poi qua abbiamo la linea di fine, la linea di inizio e tutti quanti i pezzi del tracciato più, come vi ho detto, le carte da utilizzare appunto per fare le proprie mosse, le proprie azioni e poi carte riassuntive, quelle che Dick Dusterly ci userà contro vi faccio vedere un po' come funziona questo verrà sicuramente un video abbastanza breve anche perché le regole sono veramente semplicissime noi all'inizio si va a prendere la scheda di un personaggio o per meglio dire la scheda del nostro pilota e andiamo a scegliere quello che vogliamo si può scegliere con un tiro di dado oppure ci si può mettere a tavolino e essere d'accordo nella gara ci devono sempre essere quasi tutte le macchine quindi anche se siete in due giocatori ognuno sceglie una macchinina, il proprio corridore e quell'altro sono mossi dalle regole del gioco il gioco è molto facile, c'è una prima fase di tracciato dove si pescano casualmente dei tile da mettere tutti quanti in fila poi si arriva a un certo punto a un pit stop, un'area di servizio dove è possibile ma non per forza fermarsi a fare rifornimento, a fare riparazioni e cose del genere e poi una seconda fase che è un tracciato in stadio avanzato un po' più complicato come nel cartone animato partivano da una strada normale per pandare nei boschi, nello sterrato e cose varie e ciascun nostro pilota sulla propria scheda ha delle abilità, delle caratteristiche dei poteri speciali che può utilizzare e ciascuno di noi va a pescare da un mazzo di carte che poi sono carte e risorse e su queste carte c'è semplicemente il disegno del tracciato quindi regola del gioco vuole che si possano fare da una a tre mosse per giocatore quindi ipoteticamente giocare tutte le carte che abbiamo in mano giocando la prima carta, qualsiasi, potete muovere avanti la macchina di uno giocando la seconda e la terza carta lo potete fare soltanto se la carta corrisponde allo stesso panorama dove la vostra macchina è in quel momento allo stesso tipo di tracciato quindi se siete all'inizio nel deserto potete giocare anche come prima mossa una foresta per muovervi fuori dal deserto come detto quindi potete giocare una carta e non c'entra nulla però se dal deserto vi spostate in un'altra zona di deserto dovete giocare per fare la seconda mossa, eventualmente la terza una carta che sia uguale, quindi per spostarmi da un deserto a un'altra zona devo per forza giocare una carta deserto magari la gioco e mi sposto in un bosco o in una palude se vado nel bosco mi serve una carta bosco se vado nella palude una carta palude il funzionamento è molto semplice quindi è bene sempre avere chiarezza di quali carte abbiamo in mano e usarle nel modo giusto il gioco fondamentalmente è tutto qui poi ci sono abilità speciali che ti permettono di fare cose che altri piloti non possono fare tipo vi ricordate c'è il boscaiolo che quando entra in una zona di bosco lui la prende invece come una zona qualsiasi perché la va a disboscare piano piano quindi fondamentalmente può giocare tutte le carte che vuole e si sposta comunque anche in quella zona lì non ha problemi cioè chi magari si sposta meglio nella palude insomma quello che abbiamo visto nella serie televisiva e poi finito il turno dei giocatori c'è da giocare delle carte per gli altri NPC, per le altre macchine che andranno avanti nella gara potranno fare uno o più mosse a seconda delle carte che vengono girate e poi c'è Dick Dastardly che si sposterà e quando si sposta normalmente non succede niente quando arriva in fondo, scusate, in cima alla fila quindi lì siamo tutti quanti dietro sgancia una trappola e il primo che passa in quella zona lì la prende quindi una trappola potrebbe guastarti la macchina farti perdere un turno mandarti indietro di qualche casella lui è lì soltanto per minare la gara non gliene frega niente infatti non può vincere Dick Dastardly semplicemente va a minare la gara lui non gli interessa niente di vincere o perdere il funzionamento del gioco ragazzi è tutto qui ma è un gioco veramente che va preso per quello che è perché deve essere semplice come regolamento ed è la cosa più importante che deve essere divertente, immediato e veloce e lo fa benissimo in conclusione Wookiee Race è un gioco veramente di una semplicità disarmante il regolamento letto una volta basta ad avanza sì magari c'è da fare il classico turnettino il classico primo giro dei giocatori più l'intelligenza artificiale per vedere un po' al meglio il funzionamento però comunque è un gioco facile guardi le carte che hai in mano guardi l'abilità speciale da usare nel momento giusto e vai avanti deve arrivare primo deve arrivare in fondo alla gara anche perché come vi ho detto si vince arrivando primi poi se fate una modalità nelle regole c'è una modalità avanzata opzionale chiamata championship potete fare anche più tappe magari alla fin fine dare dei punteggi e vince il giocatore che ha vinto più gare e che è arrivato in posizioni più alte però nel gioco di base vince che arriva primo quindi un gioco assolutamente per tutti qui lo danno dai 14 anni in su no no secondo me da 10 in su ma tranquillo anche perché basta vedere la carta che ho in mano basta vedere i tile dove sono ed è veramente facilissimo questo gioco se lo volete acquistare primo link in descrizione in sovraimpressione dal nostro negozio sponsor gioco libreria semola al miglior prezzo sul mercato vi ricordo quando acquistate qualsiasi cosa dal nostro negozio sponsor giochi wargame colori e quant'altro giochi da tavolo usate sempre il codice sconto come vedete in sovraimpressione Coridan 7 per avere un discount e uno sconto pari al 7% e per spese superiori a 79 euro non si pagano nemmeno le spese postali tempo che ordinate in massimo 24-48 ore esagerando il gioco lo avete a casa se non lo trovate in lista ce lo dovrebbero avere perché è un titolo uscito da poco ma se non lo trovate in lista scrivete al supporto clienti e fate presente a Corrado del proprietario che arrivate dal canale di Coridan lui farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato e quando acquistate qualsiasi cosa il codice sconto Coridan 7 mi raccomando ragazzi è un gioco veramente divertente è un gioco immediato e le miniature sono spettacolari questo è davvero un gioco divertentissimo e per tutti ciao alla prossima è un gioco divertente